Salve io sono Pio e bentornati nella Cazzocraft, la serie di Minecraft Survival con il nome più bello del web. Signori come vedete ci troviamo nella salita degli Enchanting perché in questo episodio, visto che nello scorso avevo iniziato a farla, in questo episodio non dico che vorrei finirla ma vorrei comunque cambiarla perché mi sono venute alcune idee che secondo me potrebbero essere interessanti. Innanzitutto vi faccio vedere che ho sistemato un po' l'inventario, off camera ho farmato un po' di legno di tutti i tipi. Per tutti i tipi intendo tre tipi perché questi ci abbiamo visto che quel cos'era Dark Oak da solo non crescerà mai, quindi bene ma non benissimo. Sono andato anche a prendere un po' di Ametista che fra l'altro è stato un casino da trovare perché se vi ricordate nella miniera l'avevamo trovata però non mi ricordavo dove era. Solo che poi mi sono ricordato che anche nella Minecraft c'era l'altra però ormai avevo preso quella e quindi amen. Nel caso mai dovesse servirne altra andrò nella Minecraft perché è più facile da trovare, almeno spero, anche se poi in realtà è tipo un labirinto ma questi sono dettagli. Comunque le idee che mi sono venute innanzitutto sono di levare la terra e non farlo più con la terra qui ma fare tutto un ambiente scuro. Quindi voglio alzare un po' il tetto. Qui queste librerie le voglio togliere sperando che mi ridiano tutti i libri che ho usato in modo tale da farne altri e metterle un blocco più in dentro perché comunque voglio lasciare un po' il rotondo qui così invece è troppo squadrato. E poi soprattutto voglio fare tutto con blocchi scuri perché per me la stanza degli enchant deve essere sempre un po' tetra, tenebrosa. Quindi secondo me ci sta bene farla un po' più scura. Ora leviamo innanzitutto le librerie, vediamo sono 9, 9x3 27, abbiamo 27 libri, perfetto. In totale dovremmo arrivare a 81 se non sbaglio quindi speriamo ce li diano tutti. Tecnicamente dovrebbero perché danno sempre 3 libri quando le rompi però non si sa mai. Noi abbiamo un solo libro che ci è rimasto sinceramente di andare a cercare altre mucche visto che non penso ne abbiamo ovviamente ormai le abbiamo finite quasi tutte. Sinceramente voglia non ne ho di andarle a trovare. Ci abbiamo 64 più 17 sono in totale 70, 77, 81, perfetto. Mi devo fare di nuovo tutte le librerie però prima visto che ci siamo rompo qui. Nel mentre che rompo mi scuso se mi sentite un po' la voce un po' particolare, un po' strana ma in realtà mi sono svegliato da poco quindi c'ho un po' la voce di merda. E purtroppo capita. Sapete come anch'io ho bisogno di dormire sono un essere umano non sono un robot quindi giustamente appena sveglio ho poi la voce che fa schifo che già fa schifo di suo però dopo che mi sono appena svegliato ancora di più. Intanto mi sto prendendo sto carbone perché male non fa anche perché abbiamo un po' di roba da cuocere e per roba da cuocere intendo sia blocchi che ci serviranno per costruire sia la carne che in realtà ho già messo a cuocere ma non credo che i set di carbonella che ho usato basteranno. Ok c'ho dei blocchi che posso usare beh c'ho quelli che ho appena preso. Ok c'ho altri blocchi c'ho l'andesite la usiamo ma si che cazzo ce ne frega è sempre poca in realtà però ce la facciamo andare bene qui rompiamo anche da questa parte così recuperiamo qualche blocco da poter mettere lì ok andiamo a mettere altri blocchi quindi serve questo poi questo dove il granito eccolo qui c'è anche la dirt questi magari spostiamoli qua per non creare confusione questo anche facciamo granito 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 e blocco di dirt perfetto. Abbiamo scavato tutto qui sì ok allora adesso andiamo a farci le nostre bellissime librerie che fra l'altro non so se lo sapete ma nella 1.20 hanno aggiunto altri tipi di librerie che sono delle librerie praticamente vuote dove poi ci puoi andare a inserire dei libri il problema è che se non sbaglio quei tipi di librerie anche se sono carini perché poi non è che sono bellissime però sono carini hanno un solo problema e cioè che essenzialmente non le puoi usare per la stanza dell'inchant cioè non danno energia all'inchant. Enchanting table se così si può dire quindi sono un po' cioè belle carine le puoi usare per i circuiti di redstone perché quando inserisci o levi libri danno impulso di redstone però ecco non è che sono proprio il massimo perché a me le librerie è l'unico utilità che c'hanno sono l'unica scusate utilità che c'hanno sono quelle di essere usate per l'enchanting table. Si bello un passaggio segreto magari dove vai a mettere o a levare un libro e si apre però insomma mica tanto usarle solo per quelle non lo so non mi sembra proprio il massimo. Intanto andiamo a metterci quali librerie ok effettivamente uno più dentro ci stanno anche meglio anche perché sono un po' più scure secondo me sono un po' più carine. Ora per quanto riguarda il tetto prima di andare a modificare il tutto vorrei anche modificarlo perché sinceramente così non mi piace tantissimo. Quindi vorrei andare innanzitutto a fare uno più in alto quindi facciamolo tutto così. Tanto qui penso ci metterò un qualche scalino un po' come ho fatto nella stanza all'entrata della casa perché voglio fare tipo una cupoletta però devo anche capire come andare a farlo. Direi che così come altezza ci sta pure bene però sinceramente vorrei andare ancora più su ma lasciando un blocco dal bordo quindi facciamo tipo così. Ok spero di non sbagliare no aspetta qual quadra non cosa cosa ho sbagliato ho sbagliato che questo qui giustamente è uno più in fuori o meglio uno più in dentro vabbè dipende da dove lo vediamo. Quindi questo deve essere un blocco in meno e qui posso rompere in questo modo ok qui posso poi levare tutta la stone andesite questa bianca che non mi ricordo che cazzo è che cazzo è di orite ecco cazzo è quella con il nome più bello sembra una bestemmia non me la ricordo ma dai. E poi una volta fatto questo vorrei magari fare provare più che altro a fare un altro in questo modo e poi rompiamo questi al centro perché qui ci voglio mettere poi l'illuminazione che sarà un'illuminazione un po' particolare. Che sono indeciso se farlo con tipo le lanterne che cadono cioè che scendono con delle catene in modo da farlo sembrare una specie di lampadario oppure tipo con del vetro oscurato quando ci avrò i colori per farlo con dietro della glowstone delle redstone lamp che potrebbe essere una buona idea. Ecco sapete che così non mi dispiace è bello alto ci sta molto carino solo non mi piace l'entrata che poi comunque dobbiamo andare a modificare perché così squadrata va abbastanza cacare ad essere sincero qui sicuramente la modificherò però devo capire ancora come qui come aspetto mi piace. Ora per quanto riguarda i blocchi che voglio usare dovendo usare blocchi scuri innanzitutto andiamo dentro casa e vediamo cosa c'abbiamo perché dovremmo avere forse della blackstone o qualcosa di simile comunque qualche blocco preso nel nether. Di blocchi scuri abbiamo la polished blackstone ok sti blocchi magari leviamoli un attimo basalto ma il basalto normale sì il polished non mi serve a un cazzo nether bricks boh portiamoceli non mi fanno impazzire però eh ci può stare. Vorrei usare anche questi planks rossi il problema è che non saprei come usarli perché comunque sono chiari non sono scuri però sapete che vi dico portiamoci portiamoci anche questi perché magari qualcosa ci può uscire. Abbiamo poco a glowstone fra l'altro non abbiamo un cazzo di glowstone ma vabbè ci facciamo andare bene. Whee ok piace buttarmi così come un cretino comunque dove sono le cista andiamo a scaricare eh non so parlare scusate a scaricarci un po' di roba qui dove la posso scaricare magari qua ok. Che cazzo scarico? Eh boh scarico il legno magari ma sì scarichiamo il legno mettiamolo così in ordine così magari non ci confondiamo magari facciamo così. Ok ho scaricato praticamente tutto il legno beh tranne quello che abbiamo preso adesso qui fra l'altro c'è il carbone che avrei dovuto lasciare sopra ma lo lascio adesso. Qui come vi ho detto abbiamo messo a cuocere la carne quindi direi che questa basta e avanza ed è bastato pure la carbonella in realtà erano sette pezzi. Se non pensavo servissero cioè bastassero a cuocere quei trenta pezzi di carne che avevo messo ma va bene così. E qui che c'è rimasto? La granito il granito che lo lascio qui e qui ci sono rimasti i blocchi che voglio provare ad usare. In più qui abbiamo un botto un botto di deep slate che adesso ci andiamo a prendere pure così e dobbiamo adesso capire come vogliamo fare tutto lo stile qui dentro. Innanzitutto la terra la devo levare deve proprio sparire perché l'idea di poi far arrivare eventualmente in futuro la terra verde qui dentro anche no grazie perché sinceramente è un po' una cacata. Deve essere tutto scuro e quella terra verde non ci sarebbe per un cazzo. Peraltro qui sotto c'è un botto di carbone io adesso ormai visto che ho scavato me lo prendo un attimo e poi continuiamo a fare quello che stavamo facendo. Ragazzi non avete idea di quanto carbone ho preso porca puttana cioè guardate tutto questo tutto quello più tutto qui anche qui sotto. Cioè ho preso 43 pezzi di carbone porca puttana in una vena cioè due vene vicine è un botto a meno male che si trova così il carbone porco il cazzo alla grande. Mi serve però qualcosa per riempire userò la dirt stessa perché non penso che mi servirà un cazzo quindi va benissimo la dirt. Ok ho riempito tutto e adesso sapete che non so se voglio farlo effettivamente all'altezza base. Cioè se provassimo tipo a scendere di oddio un mezzo blocco non lo so perché poi tutti sti blocchi non li potrei lasciare così sembrerebbero un po' tanto brutti. Qua che cazzo è successo perché ci abbiamo la crying obsidian che sta sudando o sta piangendo forse per quello che si chiama crying. Dovrebbe essere ma non lo so può essere effettivamente c'ha più senso così comunque non lo so potremmo provare a fare tipo degli scalini. Che io a sto punto mi sa che la crafting table me la tengo vicina perché vabbè no sti cazzi lasciamola qua. Proviamo a fare degli scalini magari fatti un po' così. Masi 20 scalini e un po' fatti di coble di Y-Slet direttamente. Si direi che 24 basta e avanzano. Proviamo a metterli intorno però non lo so la mia è solo un'idea eh. Non lo so com'isce. Adesso alterniamo con questi. No tu non ti devi mettere così però dicevo alterniamo con questi di Y-Slet direttamente. Ok non così. Però in realtà se questo qua lo metto al contrario si dovrebbe attaccare senza problemi. Infatti questo lo posso mettere così. No. Proviamo a mettere questo qui al contrario. Tipo fatto così no eh. In qualche modo si attaccheranno spero. Ma porco il cazzo. E basta. Devo cambiare tutti uno a uno. Ah e che cazzo. Ecco tipo qua ci sono sti blocchi in mezzo al cazzo che non dovrebbero esserci. Eh non lo so. Proviamo a rompere questi. Se li rompo che mi dà? Mi dà il blocco perfetto. Quindi non ci sono problemi. La crying obsidian lo può ci mettere a tre ore. Ok perfetto. L'ho presa la crying obsidian sì. Mettiamo questi ultimi blocchettine. Ok. E questo invece va qua. Non così. Madonna che casino però mettere questi cazzo di scalini. Che fastidio. Guarda. Combaciano un cazzo o non combaciano? Annaggia la miseria. Ti vuoi collegare? Mannaggia chi so io. Ah e che cazzo. Allora. Non lo so. Non lo so. Nel senso qui sicuramente ho sbagliato. Perché sto vedendo che vado effettivamente uno più in fuori. Eeeh strano. Beh. Eeeh ho sbagliato. Ok. E quindi questi li devo levare. E devo non lo so riempire. Vabbè riempiamo con la dipstrate. Tanto comunque dobbiamo fare tutto scuro. E poi andiamo a mettere questi qua. Si attaccheranno col cazzo immaginavo. Dai che palle. Ma perché li devo cambiare tutti sti cazzo di cosi? Che fastidio. Madonna. Madonna. Sti scalini di merda. Guarda. Ma per far combacere questo li devo cambiare tutti. Ma che cazzo. Vai. Collegati così. Poi te ti devo girare per farti collegare. E. Lo sapevo. Mo devo girare te. E poi devo girare te. E poi forse capite che vi dovete collegare. Perfetto. Alla grande. Ok. Allora. Ci può stare. Qui magari mettiamo la crying obsidian. Messa così. E tutto qui ci metto gli slabettini. I slabettini ne ho qualcuno. Avevo questi qua. Esatto. Mi faccio qualche slabettino anche di deepslate. Sapete che non so se si può fare lo slab di obsidian. Non credo. E. No. Non è quello che mi serviva. Assolutamente no. Vabbè. E. Niente. Lasciamo stare. Facciamoci qualche slabettino così. Un. Due. Tre. Poi. Ci abbiamo qualche altro deepslate. Ok. Facciamoci gli slabettini. Mettiamo slabettino. Slabettino. Poi. Dove stanno questi qua che avevo fatto? Eccoli. Mettiamo quelli di cobled. Uno qua e uno qua. Poi qua facciamo tutto così. Qua manca una scaletta che non è questa. Perché cazzo ho preso la scaletta se vuoi non la piazzo. Eccola. Qui mettiamo questo. Qui invece questi qua. Qui facciamo tutto così. Ok. E qui riempiamo con la cobled. Vediamo. Ci sta. Ma se vede che non è male. Mi piace anche l'effetto che dà qui sotto la crying obsidian. Forse ci sarebbe meglio l'ossidiana normale. Perché riprende direttamente la texture della tavola. E sembra tipo un tavolo più alto. Potrebbe starci. Però mi sa che ossidiana non ne ho al momento. Quindi per adesso direi che ci va più che bene così. Per quanto riguarda il resto dei muri. Della stanza. Proviamo a farlo con questo legno qui. Non lo so. Secondo me ci potrebbe stare. Solo devo capire come usarlo. Perché comunque è scuro eh. Non è chiaro. Me lo ricordo un po' più chiaro. Però in realtà ci sta bene. E potrei provare a farci il tetto con questo. O magari pure alternandolo con la deep slate. Quindi proviamo a fare magari qualche scalino. Ok vabbè 16 direi che basta. Facciamoci qualche blocco così. Questi ce li teniamo da parte. E andiamo a posizionare magari qualche scalino. Messo oddio se lo metto così. E il contrasto con le librerie non è proprio il massimo devo dire. Perché le librerie comunque sono color rock. E non ci sta benissimo. Però forse se le vado a rompere. Posso far partire il tutto da un punto più in alto. Qui magari invece ci posso mettere esatto. E ci posso mettere questi qua. Quelli di coble deep slate. E invece qui sopra potrei far partire. Magari non in questo senso ma al contrario. Potrei far partire una striscia di questi qua. Che poi in realtà li posso mettere anche così solo per dare colore. E qui e qui sopra. Sì. E potrei dare colore anche così. Non è necessario effettivamente che io vada a metterli tutti di questo colore. Oppure sì. Oppure sì. E quindi qua rompo. Magari con il piccone. E faccio una cosa di questo tipo. Ok. Ci può stare. Non è male. Solo che ho finito gli scalini purtroppo. Andiamo a farci altri scalini e vediamo. Qui fra l'altro sì. Devo mettere quelli in batch. Lo so. Mi ricorderò prima un po' di farlo. Ma non è questo il momento. Ok. Abbiamo altri 20 scalini. Direi che bastano. Tanto dei clienti ne servono tre per angolo. Quindi dovrebbero bastare senza grandi problemi. Porca la puttana maledetta. Che palle quando li metto al contrario. Si scalini di merda. Ma perché? Ma io vi odio. Ma io vi voglio proprio tanto tanto male. Quando vi mettete proprio a cazzo. Rompiamo questo. Rompiamo questo. Allora mettiamo uno così. Uno così. E uno così. Perfetto. A suo giro non abbiamo avuto problemi. Quindi ripetiamo. Era così. Così. Si è già messo ad angolo. Perfetto. E vi devo dire. Non è male. Per niente. Per niente niente male. Assolutamente. Non è malissimo. No no. Assolutamente no. Devo solo capire. Qui come eventualmente andare a fare l'angolo. Perché di certo non lo posso fare in questo modo. Il che mi comporta che io debba rompere questi qua. Ma dover rompere questi significa che. Devo fare tipo le colonne più in fuori. O meglio più in dentro. Scusate. E comunque così non ci sta bene. E questo è un problema. Questo è un problema grave. A meno che io non voglia lasciare. Questi così. Magari alterniamoli con questi qua. Se ce li abbiamo. Facciamo pure così. Un po' come abbiamo fatto a terra alla fine. Ok. E lì ci metto le colonne direttamente. Di Dipslet e di Dipslet Bricks. Quindi rompiamo tutte ste colonne. E facciamo una piccola prova. Perché poi non lo so se mi piace. Tra l'altro. Mentre che rompo qui. Vi ricordo che io. Negli ultimi episodi. Sto mettendo sempre un timer. Cosa che nello scorso episodio. Io non ho fatto perché mi sono dimenticato sinceramente. Quindi ho registrato tipo un'ora e mezza. Però a sto giro. Ho un timer di 35 minuti. Quindi appena suona il timer. L'episodio finisce. Perché ogni volta non posso registrare mille mila ore. Che poi è un casino da editare. Ma vabbè ve lo sto dicendo ad ogni episodio. Però in questo episodio in particolare. Perché quell'episodio da un'ora e mezza. È stato un casino da fare. Quindi evitiamo. Qui c'ho della Blackstone che posso usare. C'ho del basalto da qualche parte. Eccolo. C'ho c'ho c'ho. Della Cobble Deep Slate. Poi che cazzo c'ho più. Polished Blackstone. Vabbè. Cosa altro? Oh oh oh. Dei Deep Slate Bricks che posso fare. Facendo così. Magari facciamo direttamente in questo modo. E poi ci facciamo i Bricks. Perfetto. Andiamo a mischiare un po' sti colori. Per vedere come sembra. Perché. Sinceramente poi. Tutto fatto uguale. È un po' bruttino. Magari. Qua ci mettiamo questo. E qua. Ci mettiamo invece. La Cobble Deep Slate. Mi piace. Non lo so. Anche perché. Sto basalto. C'ha. La texture diversa sui lati. E la cosa mi urta. Quindi no. Sto basalto. Se ne va proprio a fanculo tantissimo. E ci metto questi. Però la Blackstone. Ci potrebbe stare. Se non fosse che. Io c'ho pure. La Polished Blackstone. Che è questa qui. Che è decisamente meglio. Perché. Assomiglia molto. All'Andesite. No. Proviamo. A fare tipo. Così. Qui ci mettiamo. La Cobble Deep Slate. Anche qui. E qui magari. Ci mettiamo. Della Blackstone. Con uno. Così. Ah cazzo. Qua ci vuole anche. L'altra colonna però. Perciò. Qua ci va senz'altro. La Cobble Deep Slate. Qui ci mettiamo un altro di questo. E poi una Blackstone. Qui in mezzo. Regà. Non è male. Molto scuro. Non mi dispiace. Per niente. Qui lo devo cambiare. Lo so. Ma lo cambio dopo. Però. Visto così. Vi devo dire. Non è affatto male. Mi dispiace non avere abbastanza Blackstone. Da poterlo usare anche a terra. Però è molto carina. Allora. Qui la Cobble Deep Slate. Sicuro. Anche qui. Qui invece parto con questo. Ci metto poi uno qui. Uno di questi qua. Qui salgo con questi qui. Per poi chiudere con la Deep Slate. Qui invece salgo tutto di Deep Slate. Ma sì dai. Qui così. Qui in questo modo. In realtà. Questo qua. Non lo voglio di Deep Slate. Lo voglio. Lo voglio di Blackstone. Ah lo voglio di Bricks. Ok. Bello. Bello. Carino. Non mi dispiace. E adesso devo fare la stessa cosa qui. Quindi. Qua ci va il Bricks. Qua ci va il Bricks. Inevitabilmente. Qui ci andrà la Deep Slate. E. Vabbè. Questo in realtà lo devo cambiare. Quindi. Posso mettere anche il Basalto qua. Poi ci metto Deep Slate qua. Bricks. Poi. Questa. E magari. Non lo so. La Cobble. La non ce la vedo bene. Quindi facciamo così. Ok. E. Carino. Carino. Non mi dispiace affatto. Assolutamente. Molto molto carino. Allora. Se lo vediamo così. Sembra quasi finita la stanza. Nel senso. Non vediamo il sopra. Però. Già vedarla così. È molto bella. Assolutamente normale. Come ci sono salito qui sopra? È un blocco e mezzo. Posso saltare un blocco e mezzo? Non lo sapevo. Non è vero. Perché. Le fence sono alte a un blocco e mezzo. Io non le posso saltare. È un po' fatta male sta cosa. Cioè. Perché questo sì e quelli no? Vabbè. Dettagli. Forse perché noi non stiamo effettivamente sul mezzo blocco. Ma ci calcola come un blocco. Potrebbe essere. Allora. Rompiamo questi. Qui sapete cosa ci sarebbe bene? Fra l'altro. Ora che ci faccio caso. Perché questo è interno e quelli no? Quindi qui ho sbagliato. Quindi questi non devono stare qua. C'era qualcosa che non quadrava effettivamente. Mi sembrava un po' strano. Eh sì. Decisamente. Quindi rimettiamoci questi qua. Ma come cazzo era? Era così. Forse così. Qua invece c'era probabilmente questo. E qui questo qui. Qui ci andiamo a mettere uno slab di bricks. Che cazzo ho fatto? Ok. Ecco no. Magari facciamo in questo modo. Questo pure lo mettiamo di bricks. Che palle. Scalini di merda. Madonna che fastidio. Si cazzo di scalini. Madonna che fastidio. Che cazzo di casino ogni volta. Guarda. Maledetti. Maledetti bastardi infami. Dai cazzo. Ma io li posso levare tutti. Ma che due coglioni. Ma va porca di quella puttana maledetta. Ma guarda un po'. Ah alleluia. Che cazzo. E basta. Adesso devo fare la stessa cosa qua. Quindi. Questo così. Tu girati perché già so che mi darei fastidio. Mettiti così. Tu in questo modo. Io a te. Mo ti devo girare pure. Direi che faccio così. E così. E mo devo girare a te. Però che coglioni eh. Ogni volta. E che cazzo. E dai madonna santissima. Ste scale di merda. Ma io non lo so. Ma come cazzo se le sono inventate ste scale. Ma cosa gli ha detto al creatore di Minecraft. La testa. Quando se le ha inventate. Ma che problemi ha. Aveva. Ah. Non lo so se è morto. No non credo sia morto. Ma qua ci va questo. Ovviamente. Ma lo sapevo già. Che non si sarebbe mai messo bene nella vita. E qua ci mettiamo questo qua. Ok. Ok. Però. Però. Questo lo leviamo. Anzi. Questo lo lasciamo. Leviamo questo qui. E li scambiamo. Levo anche questo. E lo scambio con questo. Levo anche questo e questo. E li scambio con questi qua. Quindi ci va questo qui. Questo qui. Questo qui. Dove sono questi qua. Ok. Oh cazzo. È suonato il timer. Che fa un casino della madonna fra l'altro. Però. Però. La bavimentazione l'abbiamo praticamente finita. Le mura anche. A parte questo che. Magari possiamo andarla a modificare un attimo. Giusto prima di finire e chiudere l'episodio. La parte alta comunque l'abbiamo iniziata a fare. Devo capire meglio come fare la parte proprio superiore. Però. Penso poi lo capiremo nel prossimo episodio. Intanto facciamoci un attimo sto muretto. Abbiamo della Blackstone che c'è rimasta. Abbiamo la Crank Obsidian. Usiamola. Abbiamo della Cobble Deep Slate. Qualcuno di questi ok. Questo lo diamo che tanto non ci serve. Di scuro non abbiamo nient'altro. A parte i Nether Bricks. Ma. Nether Bricks però. No. No. Sono rossi. Fanno schifo al cazzo. Non c'entrano assolutamente niente. Allora io direi mettiamo una Blackstone qua. Una Blackstone anche qua. E una qua. Poi facciamo Bricks. No. Bricks di sopra. Poi facciamo Bricks qui e qui. Qui ci mettiamo questa qui. Ok. Già più senso. Però non mi piace che sia così. Quindi voglio qualche scalino. Scalino che in realtà c'ho solo di questi tipi. Quindi ci andiamo a mettere scalini così. Che già c'ha più senso effettivamente. Eh sì. Come entrata c'ha molto più senso. Anche perché con gli scalini che stanno sotto sembra quasi rotonda l'entrata. Ci può stare. Ci può decisamente stare. Se molto molto più carina così. Oddio. Forse tutto sto. Sto. Sti. Deepslate messi così a cazzo. Un po' brutti. Devo dire. Sapete che. Levo quasi quasi questo. E questo qua. E li inverto. Quindi ci metto magari. La Blackstone qui. E quella di Deepslate. Levo poi questi qua. E ci vado a mettere il Bricks. E per il resto. Oddio. Lo posso lasciare pure così. Cambio un cazzo. Però c'ha più senso. Ma sì dai. Diciamo che c'ha più senso. Va bene. Va bene. Non mi dispiace. Non mi dispiace per niente. Ci sta. Ci sta. Molto molto carina. Perciò signori. Per il video di oggi è tutto. Se vi è piaciuto mettete like. Se non vi è piaciuto mettete dislike. Ma commentate dicendomi cosa non vi è piaciuto. In modo tale che possa migliorarmi. Se vi sono simpatico iscrivetevi. Magari attivate la campanella. Che a me come al solito non dispiace mai. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.